Dopo 10 anni di carcere Asia Bibi torna a casa. La Corte Suprema infatti del Pakistan ha assolto in data odierna la povera Asia Bibi, donna cristiana, condannata a morte per blasfemia nel lontano 2010, 8 anni fa di tempo. Il verdetto accoglie il ricorso presentato nel vicino 2015 contro la condanna emessa dall'Alta Corte di Lahore LHC, che nel novembre del 2014 confermò la decisione di un tribunale del 2010. Gli attivisti per i diritti umani e la comunità cristiana hanno comunque accolto con grande favorevole parere il verdetto finale della Suprema Corte. Kalim Hussein Rezbi, a capo del partito di Slavista Terek e Labai Kavakistan, invece starebbe organizzando una protesta di tipo nazionale contro l'assoluzione della donna in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.